La donna, madonna, 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 una fe... Che venga madama? No, che guarda non pu... Che venga? No, ma guarda non mi... Ma è niente, che venga? Non mi diano... No, ci mettiamo qua se tu, una minuta... Non mi diano un po'... Ma che sgiena niente, tanto è arrivata anche madamina adesso... Con la borsa, la spesa... Ma che venga se tu... Ma c'è giù un po'... Ma che venga? Come se avessi già accettato... Ma no, ma che venga... Che venga, che rompa nelle balle? Oh, madonna, questa si fa due balle che sono due angherie... Che venga... Ma va, si, che venga, si, che fanno nella folla... Venga... Ma che sono proprio contenta di essere comodo... Venga, si sieda lì, si sieda lì... Ha visto? Si sieda... Oh, meno... Va bene, prego... Si sieda... Quanta gente... Ha visto quanta gente... Faccegli una applausi, no, questa si va avanti... Ha visto? Chi c'è? Eh? Chi c'è? E per chi la deficienta? E per me? Si... Qual hai fatto? Niente... Sono stupiti che è arrivata lei... Casansetta... Casansetta... Casansetta, hai pianto una patela... Oh, madonna, questa si... Ha visto, madonna... Allora, questa manifestazione di questo... Ha visto? Cosa fa il banco del mercato, ci hanno questi canti? Nooo... 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 Ho visto della roba, la mia roba del mercato... Ma che fa... Ma fate ferma... La roba è tutta firmata... Firmata dai cinesi... Ma che cinesi deficienti... Ma fate ferma... Ha visto quanta bella... Quanta bella... Ha visto quanta bella... Ha visto quanta... Ha visto quanta gente? Ho visto... Ho visto... Oh, ma quanta roba... Oh, ma che roba... Oh, ma... Madonna, ma quanta gente... Madonna, ma... Oh, ma... Ma cosa fa lei? Oh, ha un senso di... Stupore... Si, ma sai... Il primo in te... Sono sempre... Oh... Si, ha rompito già abbastanza le balle, comunque... Madame... Si... Ma è venuta da sola? Si... Nel senso motorio, ne? Si... Perché l'arca roba... Ciao, ne? Ciao... Ma veramente... Guarda... È venuta qua da sola? Mi sono preso mezza giornata... Perché non poteva più... Ha fatto bene... Madonna... Stira e lava... E fa la spesa... Ma per più... Due bagno... Bra... Tutti a qua... Guarda... Chi l'hai? C'ha due figlie... Due figlie... Femmine... Ma tanto contenta... Due donne... Tanto contenta... Guarda... Non ha tanta soddisfazione... Guarda... I figli... Tante... Le soddisfazioni... I figli riempiono il cuore... Sì... Svuotano il portafoglio... Sì... Però... Riempiono il cuore... Perché... Ogni... Scarraffone... Bella... Mamma... Soia... Sì... Le pone le panatera... Le pone le panatera... Sì... Sì... Quindi le figlie a casa? È già Maria... Quella più grande... La più grande... La già i città... E tutte quante le cose... Con la piccita? La piccita... Diz di tanni... L'ha già trovato... Il travai... Madame... Sono... Tant... Contenta... Guarda... Una roba... Ma... Scusa... Madame... No... Cioè... Diciotta anni... Diz di tanni... Diz di tanni... Ha già trovato... Guarda... Che una roba... Venta proprio... È... D'ingegno... Capisce... Diciotta anni... Ha già trovato... Diciotta anni... Ha già trovato... Che cool... E sarà per loro anche... No... Dicevo... Che fortuna... Sì... Bisogna avere anche la fortuna... Per loro... Dizia... Oh... Senta... Guarda... Se lavora per uno che... Mi sa in encuma... Che sia in due... Che l'abbia trovato... Che... Guarda... Una persona... Una persona... Che... Guarda... Ma veramente... Ma stanno bene... Ma da me... No... Perché... Ma parla a te... È strano... Ma... Quando c'è lo stupore... Sì... Ma già rompevi con le palle... Questo stupore... Anche l'ammirazione... Quando... L'ammirazione... Ma si parla pare... No... Che senta... Oh... Madonna questa... Che senta... Ma... Che lo... È... Che... È... Perché mia figlia ha studiato il pet swap, ha studiato la segretaria dell'Asiana. E ha trovato questo qui? Sì, Bit. Sì, Bit Travai. Sì, Bit Travai, ma uno deve essere un po' grosso perché comunque mi sei nemmeno come che sia. Come si chiama che si? Ho sposato per un uomo tutto da un pezzo. Come si chiama? Mauro Minetti. Mauro Minetti? Sì. Ma quelli che c'è il negozio del Futur Fest? Mi sei nemmeno come che sia. Comunque è costito che comunque c'è. Questo qua è un pezzo, cioè ho sposato con una figlia per carità, un uomo tutto da un pezzo. Ci mancherebbe. Per carità. Però le piace la propria sua tagliare e niente da fare. Mia figlia sta crescendo a livello lavorativo. Sta crescendo a livello lavorativo. Che guarda, sono proprio tan contenta che guarda una roba paremi, veramente. Sì, ma tacca nemmeno che ti pianto una patella che ti va in Piazza Massava senza più il pulmo. Ma cosa fa? Questa sì, sua figlia, mia figlia praticamente, fa la segretaria particolare di Mauro Minetti. Tutti risolini, questi che comunque secondo me... Tutti risolini, no? Allora permanente, vabbè, ma comunque porta nello. Dla Juve? Sì, anche il proprio, sì, sì. Va bene. Allora, va bene, questi, no? Praticamente, cosa fa? Cosa fa? Gli dà gli ordini. Ti insegna? Ti insegna. Anche perché comunque lui è uno che se per caso... Cioè, ti fa bene una roba, lui ti premia. Sto Mauro Minetti? Ma certo. Ti premia? Ti premia. Ti fa bene una roba, lui giustamente ti premia. Ma che bella. La meritocrazia, no? La meritocrazia. Se non così, ha comunque... Ma mi niente, era le parole crociate. Io uso d'Ixano. Ah, sì, sì. Ebbè, niente. Allora, chi la sai non? Mia figlia risponde bene al telefono. Pronto? Questo è l'ufficio di Mauro Minetti. Insomma, sì, che vendiamo la roba dal mercato. Cioè, per esempio, la roba per lei, no? È chiaro? È chiaro? Quando lei risponde bene per premio. Sì. Per premio. Per premio. Perché quella è maria con una figlia, per carità, un uomo tutto d'un pezzo. Madonna che trovai. Somma tanto con te, madonna, una roba parecchia. Molla! Ma ti per finire lì, no? Ancora? Ancora? Se nemmi a via rispondi una volta al telefono. Pronto? Sono a Mauro Minetti con la del mercato. Sì, vabbè. Fotofessio. A Fabinho Anfros, perché per essere ogni tanto... A Fabinho Anfros, perché comunque... Lì in dinta gli uffici. Cosa fa? I frans, i frans, i frans. I frans, i frans. Qui fai capace un dinta la macchina. Come stiamo? I frans. I frans. Sei nemmeno il tedesco, madonna. E che lo studia? I frans. Fabinho Anfros? Sì. Per esempio? E chi è? Per premio. Perché chi è? La Maria con un figlio, per carità, un uomo tutto d'un pezzo. Si mancherebbe di altro? Per è? Qui? È Saba di Mínica. Ma che lo studia, lei dice di lui un mila volte Al mare Perché lui non è uno che va da spese Dove la porta? L'ultima volta Borghetto Santo Spirit Quella porta la cereal, l'ostegaletto, il posto proprio di lusso Per premio Per premio Perché chi era un uomo sposato, con figlia, per carità Ci mancherebbe di altro Pippa Finiali Ancora? Ancora Ma che posto ha trovato? Se per caso va bene a macchina, una roba, quelle lì, elettroniche, no? Chi? Fa bene a quelle macchine, le lettere elettroniche Del colpiorel Il colpiorel Il colpiorel Che fai nella firma? Il colpiorel Il sconspiuso Il sconspiuso Se non è tedesca, madame, come scrive Vabbè, lo sconspiuso Sconspiuso Al pc? No, piccio sarà chiaro, come scrive Noo Perché mi, come scrive Al pc, un'abbreviazione Per di piccio? Noo Va avanti E comunque, va bene a macchina, una roba Sì E chi è? Per premio Questo Mauro Minetti Per premio Per premio Perché quella è Maria con una figlia Per carità Che non chiede Alla fine dell'anno Sì Per premio globale Sì Aslapia la porta via a queste isole Che è per lì, messo al mar Andua E gli dice che Mauriglio Guarda, non costa E ci chiede di Mauriglio E ci chiede di Mauriglio E ci chiede di Mauriglio sul collo? Gli sta dietro? Sì, sì, assolutamente, perché deve ripassare tutto il lavoro di un anno. Gli sta proprio dietro? Introduci il lavoro dentro proprio. Ah, introduce? Un uomo tutto di un pezzo. Bravi. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi l'ha sempre? Ma che bel lavoro che ha trovato il suo figlio. Ma che bello lavoro. Ma che bello lavoro. Ma che bel lavoro. E invece sua figlia, madame Pautasso? E mia figlia. Anche mia figlia fa la piccia, ma non è tanto contento. Ah, allora vediamo. No, 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 no.